Una manifestazione dal rilievo internazionale, trentesima edizione. Sì, il Palio dei Comuni, la trentesima edizione, è l'occasione per far conoscere le Marche, Monte Giorgio in particolare, intorno a un evento che ha la capacità di far stringere insieme tanti comuni della nostra regione, comuni delle regioni vicine, pensiamo all'Umbria, all'Abruzzo, quest'anno alla Toscana con la partecipazione anche di nazioni straniere come la Francia. È un'occasione per vivere il territorio ma anche un'occasione per le comunità per stare insieme perché poi il Palio dei Comuni all'interno delle singole realtà comunali è l'occasione per far ritrovare insieme come giovani, anziani, famiglie che intorno a questa sana competizione si ritrovano e vivono un po' quello che è, se vogliamo, l'orgoglio paesano.